Oh, 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 my little bedroom man, oh, 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 terra di marca, fatti, avvenimenti e personaggi del territorio marchigiano. Terra di marca, un viaggio condotto dalla giornalista Gaia Tiranti, il venerdì alle 20 e 15, il sabato alle 13 e la domenica in inattarda serata su TV Centro Marco. Terra di Marca, un territorio antico che vive il presente, proiettato al futuro. Terra di Marca, prodotto e realizzato da Media TV. Ci troviamo a Bassano da Grappa, la patria del mobile Veneto. Parte tutto da qui, dal legno. Bassano mobili. Legno, legno e solo legno. Ora andiamo nel negozio di Misano Adriatico, in provincia di Rimini. E qui siamo nel punto vendita di Misano Adriatico. 3.000 metri quadri di esposizione in cui si possono ammirare lo stile e la qualità di mobili inimitabili. Da quest'anno Bassano Mobili ha un nuovo punto vendita, per essere più vicino ai clienti delle Marche, dell'Umbria e dell'Abruzzo. A Porto San Giorgio. Un'esposizione vastissima, 4.000 metri quadrati con tante proposte in legno massello di primissima scelta. Pronte a soddisfare le esigenze di arredamento di ogni abitazione, sia con stile classico ed elegante, sia con stile moderno, fino ad arrivare all'etnico. In questo mese non perdete la grande promozione che Bassano Mobili ha lanciato per fronteggiare la crisi. Sconti dal 10 al 30% su tutti i mobili presenti nelle nostre esposizioni. Il legno massello è sempre stata la nostra passione e se toccherete con mano, vedrete, diventerà anche la vostra. Le cucine Bassano Mobili in legno massello sono fatte per durare nel tempo. Dalla cucina si passa al soggiorno, dove risalta l'importanza di una credenza come questa, tutta lavorata a mano ed infine lucidata a gomma lacca. Al centro della sala, un tavolo in noce massello allungabile vi permette di invitare a casa gli amici in un ambiente sempre elegante. Per i salotti usiamo solo pelli pregiate e strutture in legno massello. Una specialità di Bassano Mobili sono le del Boiserie, per una stanza rivestita in legno di grande eleganza. E poi eccoli qua, gli ormai famosi tavoloni da taverna firmati Bassano Mobili. Grandi, entusiasmanti, dello spessore che volete, tutto in legno massello. Anche in questo caso il legno massello rende la camera da letto più bella, più accogliente e raffinata. L'arte banista di Bassano si esprime nelle proposte in legno lucidato a mano ed in legno laccato e dipinto. E non dimentichiamo le camerette per i bambini, una fantasia che non rinuncia mai alla qualità, con lucidature naturali e attossiche. Direttamente dal Veneto, direttamente da Bassano del Grappa, vi aspettiamo nei nostri punti vendita, anche la domenica. Il gruppo Cavallari di Ostra si occupa della gestione integrata dei rifiuti. Svolge i servizi di trasporto e recupero ed è presente con la Multigreen a Fabriano e a Castelplanio per il recupero dei rifiuti urbani ed industriali. Cavallari Group Ostra Fabriano Castelplanio Gestione integrata dei rifiuti Cavallari Group Per un futuro sostenibile Il Borgo Antico Tradizione, originalità, esclusività, cucina e muratura in legno massiccio, rustico, country, vintage, stile inglese, fashion and glamour. Dalle sapienti mani di nostri ebanisti, il legno viene invecchiato con lavorazione a cera d'api e gomma laccata, oppure in laccature in stile country. Il Borgo Antico è chiuso, indipendente da Giorgi Casa e non accessibile al pubblico. Per accedervi all'interno si riceve solo su appuntamento con il progettista predisposto.